io ho sempre voluto fare un test genetico per andare a capire quali sono le mie origini anche se non sospetto ce l'ho. Per questo motivo ho ricevuto un pacchetto da Telmigen e in questo video prima vi faccio vedere sul loro sito che cosa offrono, che tipo di test genetico offrono, poi andremo a ricevere il pacchetto con la spedizione amazon e lo andremo ad aprire insieme e alla fine vi parlerò anche di un modo abbastanza conveniente di acquistare questo pacchetto con piccolo sconto. Quindi mettetevi comodi, preparatevi, perché adesso vi porto nel mondo del test genetico di Telmigen. Fondamentalmente il test genetico di Telmigen è un test di laboratorio che viene fatto su un campione di saliva che vi arriva a casa, voi potete acquistare il pacchetto, vi spiego poi come funziona, e su questo campione di saliva che viene anonimizzato viene fatto tutta una serie di studi che poi portano alla creazione di un vostro profilo che potete consultare online sempre, e quindi anche questi studi poi nel tempo vanno ad arricchirsi, di predisposizionare malattie genetiche, compatibilità dei farmaci, malattie ereditarie monogenetiche, tratti personali, hai una predisposizione genetica ad evitare errori, wellness e soprattutto conoscito antenati, che è la cosa che mi ha sempre saltato. Fondamentalmente quando si iscrive, arriva a casa il test che vi farò vedere, dopodiché bisogna fare un piccolo formulario in cui vengono chieste diverse cose, non vi viene chiesto di specificare qual è la vostra ethnicity, per usare una parola inglese, cioè la vostra provenienza, il vostro fenotipo etnico, ma però viene chiesto se ad esempio voi siete nati in una determinata provincia, regione d'Italia o di qualsiasi altro paese, dove sono nati i vostri genitori, quindi il test poi secondo me viene un pochino anche focalizzato in base ai dati che voi fornite, ma viene spiegato come funziona, qui sul sito se andate a vedere, e c'è proprio tutto uno studio dietro, ci sono alcuni tratti del DNA che sono più presenti in determinate zone del mondo che in altre e intrecciando appunto tutte le vostre peculiarità genetiche, se riesci ad avere una buona idea in relazione alla vostra provenienza. Adesso non voglio più tenervi qui in questa introduzione, voglio andare a mostrarvi quello che mi è arrivato, veramente dopo pochissimi giorni dopo che ho fatto la richiesta, e quali sono i prossimi passi? Bene, questo è un pacchettino Amazon che mi è arrivato praticamente dopo pochissimi giorni da quando mi hanno mandato la comunicazione, l'ho già aperto perché fondamentalmente volevo vedere se era quello che mi aspettavo. Che cosa ho trovato all'interno? Adesso ve lo mostro, Tanny Gen, possiamo spostare la scatola. Arriva questo piccolo pacchettino, molto carino, molto anonimo, senza particolari informazioni, e adesso lo apriamo. Vedete che c'è ancora il sigillo qui, quindi vediamo di aprirlo. Ok, quindi troviamo questo adesivo protettivo che possiamo spostare e adesso apriamo la scatola. dovremmo, si apri dall'alto, facciamo così. Allora, troviamo un libretto delle istruzioni, benvenuti all'esperienza Tanny Gen, c'è anche in italiano, quindi, prima che lasciamo la scatola qui, vediamo che cosa ci dice. Ok, ovviamente il libretto qui ci spiega come ci dobbiamo registrare, creare un account, completare il formato, anzi guardiamolo direttamente in italiano così non devo tradurlo. C'è anche l'inglese, in spagnolo, in tedesco. E eccoci qua. Cosa ottene con l'acquisto di questo kit? Termigena è il servizio genetico più completo che ci sia sul mercato. Offriamo più voci di qualsiasi altro test del DNA sul mercato, ad esempio, solo considerando le malattie complesse e monogenetiche, vedrai oltre 175 elementi. Include anche ascendenza ed etnia, questa è la cosa che mi interessava di più. Ogni volta che includiamo nove voci puoi averla in maniera totalmente gratuita, immagino sul nostro account, ricerca fondamentale in Termigena e grazie ad essa il tuo dashboard verrà aggiornato ogni mese con nove voci e Termigena è più di un test del DNA, è un servizio genetico a vita. Vedete, qui siamo a prendere un servizio clienti e siamo felici di aiutarti per qualsiasi problema in meno di 24 ore. Noi di Termigena vogliamo fornire un trattamento vicino e personalizzato a tutti i nostri clienti. Il supporto al cliente e Termigena sarà la tua situazione per rispondere ai tuoi dubbi. Quindi noi dovremmo creare un account, completare il formulario, registrare il kit e poi scaricare l'etichetta. L'importante è il codice di registrazione è sul retro della copertina. D'accordo? E poi ci sono gli stack. Qui ci viene spiegato come si raccoglie la saliva nel kit che ci è stato mandato, che adesso andiamo a vedere. E poi come preparare la spedizione, stampare l'etichetta e inviarla al laboratorio. E questo è ancora il riassunto di quello che viene incluso in questo test. Vi direi adesso di dare un'occhiata al test in sé. Quindi prendiamo la scatola e andiamo a vedere. Allora, qui c'è un test che non aprirò perché voglio aprirlo quando lo utilizzerò. Questo è il raccoglitore della saliva, vedete? Si può poi aprire molto semplicemente. All'interno c'è una piccola provetta di plastica che contiene del liquido. Si vede che contiene del liquido. E qui c'è un piccolo imbuto che può aiutare poi a raccogliere la saliva. E all'interno poi abbiamo anche una borsa. Penso che è una piccola borsina di plastica. Penso che servo poi per chiudere, sì esatto, per chiudere il nostro campione e per poi rimpacchettarlo e spedirlo. Non c'è altro, non c'è altro qui dentro. E quindi io adesso che cosa farò? Rappredirò il mio campione di saliva e vi risparmio il processo in cui io devo sputacchiare qui dentro. Dopodiché me andrò il pacchetto e poi vediamo quando arriverà che cosa otterremo. Comunque intanto giusto per mostrarvi tutto quello che ci è arrivato. Ecco il kit di termogeni. Ecco qua. Quindi ragazzi, eccoci di nuovo qui sul sito. Io ho creato il mio profilo. Adesso vedete che la pagina è fondamentalmente libera e vuota. Il laboratorio è in attesa del campione. Quindi poi una volta che avrà ricevuto il campione verrà qui flegato il secondo passaggio e quando i risultati saranno disponibili potrò andare qui e scaricarli e guardarli e ci sarà un secondo video in cui li analizziamo insieme. Come è stato detto da un caro amico, non ho fatto in questo video un face reveal, ma farò un DNA reveal, sarà divertente. Io comunque vi suggerisco di tenervi sintonizzati. Se siete interessati andate nel link qui sotto e utilizzate il coricendio per avere uno sconto. E che dire, grazie per essere rimasti con me. Se avete apprezzato questo contenuto lasciate un pollicione in su. È davvero una cosa molto importante per il canale. Vi auguro una bellissima giornata o serata in base al momento in cui guardate questo video e ci sentiamo molto presto.